Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Pokémon GO Ma, 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 ma che è sto titolo? Ma, ma, ma tipo, Maltress in un uovo? Ma, ma, Fri, 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 ma che cazzo di... si, no, ok, no, ma si, che vuol dire? Che abbiamo in ente prima mondiale delle clip in cui si vede Maltress catturato da un ovetto Cioè uscito da un uovo, Maltress che esce da un uovo E... fottutamente incredibile E probabilmente vi spiego anche come è possibile È easy, è una cazzata Detto questo voglio farvi vedere i miei progressi in merito ai Pokémon Date un po' a chi c'è questo Pokémon È meraviglioso e tipo bellissimo perché l'ho messo insieme a me Siamo la coppia più bella del mondo Siamo la coppia Siamo veramente bellissimi Cioè questo è uno che è diventato da adesso il mio Pokémon preferito Vi giuro È bellissimo No, 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 è qualcosa Aggiornate le domande su Triacrack Sto Pokémon è qualcosa di clamoroso Vi giuro è bellificato e non è forte Però ti riempie il cuore quando vedi sto Pokémon È bellissimo Che spettacolo Ok, va bene Allora, 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 allora Scusate l'ho sbadito, ho decisamente sonno 141 su catturati 143 visti Ci siamo, mi manca L'evoluzione che si chiama Non ricordo bene come Tao Kangaskhan, scusate L'Apras che abbiamo visto non catturato E poi abbiamo altri due Pokémon Da inserire nel Pokémon Chansey e un altro E dopodiché E dopodiché abbiamo finito i Pokémon catturati Qui ci ha detto No, ci mancano davvero pochissimi ragazzi Abbiamo davvero quasi finito il Pokédex È incredibile Ci abbiamo messo davvero tanto tempo Però ci siamo, ci siamo e ci siamo Ora, che cosa voglio di... cosa voglio parlarvi Intanto iniziamo magari a fare qualche piccola evoluzioncina O qualcosa del genere E poi vi racconto un po' come funziona sta cosa dell'uovo di Moltres Che gli è massimo è molto easy È una cazzata Dai su ragazzi E lo sapete bene anche voi Quante volte vi ho parlato di Pokémon Di hack No, di hack Cioè vi ho parlato Oppo, vi ho parlato anche di hack Ma vi ho parlato eccessivamente di mod Che vuol dire La possibilità di prendersi un server Farselo da soli E tipo Buttarci dentro tutta la roba che ti pare E far spawnare Tutto quello che volete Creare uova in cui possano spawnare soltanto cose Particolari e tutto il resto Vi ho fatto vedere video in cui si catturavano Mew, Mewtwo, Moltres, Zapdos, Articuno E tanti altri ancora In verità sarebbe Articuno, Zapdos e Moltres E gli è massima In ordine Così Giusto per fare un po' di puntualizzazione Esatto 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 Facciamo volvere sto Nidorino E facciamo volvere un po' di persone cattive Così ci prendiamo un po' di punti esperienza Avete capito Quello che voglio dirvi Che porca miseria Con ste mod La possibilità di crearsi retro server Tu puoi fare che ti pare Puoi davvero far spawnare tutti i Pokémon che ti pare Con tutti i CP che ti pare Cioè lo decidi te A priori Dico guarda Voglio che adesso mi spawna questo E ti spawna questo Ok Qua c'è il randomico al massimo Su Pokémon GO Cioè il massimo dovrebbe essere così E mentre Tranquillamente Se fate Una roba del genere Su un server privato Siete voi che lo decidete Avete la vostra bella console Col vostro bel terminale Scrivete Voglio che A coordinate XY Mi spawni un Mew E lì ti spawna un Mew Ma potete metterci il numero Se ne spawnano anche 50 Cioè E' abbastanza easy Come cosa E per questo Si riescono a fare le cose Davvero davvero Fighissime Gira in rete Appunto sto video Vi l'ho trovato Di Questa schiusura Dell'uovo Molto molto Fantastica e particolare Oh my god Si sta chiudendo un uovo Che cos'è Che cos'è Oh Moltres Oh Moltres Poi lo sapeva subito Perché l'ha fatto Dalla consolcina Cioè Cazzo Vabbè Fotte sega Però E' abbastanza easy Come cosa da fare Non è difficilissimo Ve lo dico Tutto qua Volevo farvi soltanto sapere Che cosa ne pensavo In merito a sta roba Non è che adesso Non si deve incazzare nessuno Era soltanto per puntualizzare Basta Ragazzuoli belli Trasferisce anche Clefari Clefable Ah questa l'ho già portata al massimo 2068 Forza un'aria Wig Mancano alcune cose È vero Non ci avevo pensato Ok Questo è quanto Spero di avervi un po' Fatto chiarezza In merito a tutto quello Poi è easy È la questione Non vi preoccupare Graveler Al mille Cento No al mille Lo facciamo evolvere Magari ci arriva Al mille cento Graveler Magari ci arriva Una bestia di golem Che anche golem È un pokemon Molto figo Secondo me Eccolo qua Il nostro golemino Non so se vi è mai capitato Di vedere su intero Comunque se trovate Qualche clip strana Di cui non capite il significato Me la passate Io vi do una spiegazione Per quanto sia Ovviamente Nei miei Nelle mie possibilità Tento di spiegarvi un po' Come funziona Tutto qua Che ne dite Dai dai Va bene Ok abbiamo già portato Al massimo Sto golem Questo lo possiamo trasferire Bellissimo Non troverò mai Altri pokemon Del genere Ci metterò una vita A trovare tutte le caramelle E potenziarle al massimo Però Sei un pokemon Bellissimo Sei meraviglioso Cazzo che spettacolo Di pokemon Va bene Continuando Abbiamo Hypno Hypno Già ce l'ho Già ce l'ho quasi maxato Sto pokemon Possiamo anche venderlo Tranquillamente Non è che ci serva Un caramelle particolare Electrode Tipo abbiamo una quantità Di caramelle Infinita Facciamo evolvere Anche Voltorb In Electrode In electrode Esatto Una roba del genere Ragazzuoli Io per quanto riguarda Il server Di cui vi parlavo Diverso tempo fa Ho riscontrato Alcuni problemi Che vuol dire Che in locale È tutto abbastanza easy Quando ci giochi da solo Il problema è Metterlo su una macchina Virtuale E far No Non su una macchina So pure una macchina Proprio Non virtuale Cazzo Su una macchina Su un server vero E portarci dentro Utenza Questo è Molto molto problematico E quindi Abbiamo riscontrato Davvero un sacco di difficoltà Non so Se riusciremo Ci stiamo attualmente Lavorando Spero di riuscire A fare un buon Un buon lavoro Però Non vorrei aprire un server Uno per 10 persone Perché è inutile Due che tipo Resta lì Tre giorni E poi boom Mi crolla male Perché ci sono stati problemi In linea massima Che non funziona qualcosa Tutto il resto Quindi Se passa tanto tempo È perché Stiamo cercando Di fixarlo Il più possibile So che più tempo passa Più magari passa La moda di Pokemon Go Però ragazzi Io questo posso fare D'altronde Devo fare video Ho l'università Che è un'ombra Un'ombra proprio gigante Dietro di me E quindi purtroppo No Purtroppo no Per carità Però Ho anche altri impegni Ragazzuoli E quindi Capitemi Capitemi Questo Pokemon Da far evolvere È figo Un sacco Bello Mi piace davvero tanto Abbiamo quasi tutti i Pokemon Maxati Della prima stagione Della prima generazione Dai con stagione Ma io Ho una deformazione professionale Va bene Detto questo Ragazzi Penso che possiamo Passare In anteprima Assoluta Incredibile Solo su Free Gaming Channel Canale 543 Di Youtube Cazzo Ecco che Tanta roba sto Pokemon Con terremoto pure è fortissimo Ah Il video di Moltres Che ne dite? Lo vogliamo vedere sto videone? Siete carichi e pronti Per vedere sto bel video? Va bene Allora vi lascio Alla clip Ecco qua l'uovo Che si sta schiudendo Guardate La cosa meravigliosa Che tirano fuori Tutto è pronto Ancora D'attesa Perché adesso Qui c'è tutta la parte Oddio che Pokemon sarà E tutto il resto Se volete ve la faccio anch'io eh Ve la faccio? No vabbè Forte sega Ecco qua che si sta schiudendo Il Pokemon Bam Moltres Incredibile Eccolo qua Inserimento nel Pokédex Curato Per No per curare Perfettamente no Perché poi cazzo È un retro server Già ti è di default 3263 CP Una bestia Della natura A parte che io il mio Dragonite Ci sta arrivando Moltres Candy 14 Con Fireblast Ember Quindi è bracere E Fuoco Bomba No Non so Fireblast Tipo No Blast No Non lo so Va bene Fireflying Tipo Uccello Volante No Uccello Stessa cosa Fuoco Volante Peso 60 kg E Altezza 2 metri 10 Non è possibile Portarlo su Questo è un Moltres Da combattimento Fotonico Meraviglioso Tantissima roba E Magari Magari Ad avere Modo Guarda vi giuro sarei la persona più felice del mondo Se riuscissi Potessero catturare sti Pokémon Sarebbe davvero qualcosa di fantastico Incredibile Mi piacerebbe un sacco poter catturare i Pokémon leggendari Perché dai cazzo Eh sarebbe qualcosa di fantastico Prendere Mew 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 Mi sta venendo voglia di tornare a giocare a Pokémon Rosso fuoco per catturare sti Pokémon Ragazzoni Penso che per questo video possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciar un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se avete già fatto Di condividere il video su Facebook E fammi solo una persona Mi raccomando come al solito Fatemi sapere Se volete che io faccia altri video Su stranezze Che magari avete trovato voi In giro per il web E noi siamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie.